Allora, eccoci qua, siamo in diretta, ci dobbiamo sbricare, questa sarà una puntata breve perché abbiamo Amadeus che ci aspetta in diretta da Sanremo, dobbiamo fare un collegamento in diretta e quindi non possiamo stare tanto. La puntata è pronta, eccola qui, la villa di Saori, Lady Isabel in Italia, 250 milioni di dollari costò, ma lei utilizza soltanto una stanza, sigla! Allora, eccoci qua! I nostri grandiosi ospiti, allora direttamente dal canale Instagram Bricks, eccolo qui! Ciao Francesco, ciao ragazzi! Il nostro Antonio Fenix! Buongiorno! E poi c'è il nostro Max Anfitrione! Polvere di diamanti! Bravi ragazzi, video carichi questa sera! Allora, mi sono dimenticato solamente, buonasera a tutti, mi sono dimenticato solamente una cosa che non bisogna mai dimenticarsi, perché noi ci ricordiamo sempre degli amici che stasera sono assenti e allora lasciamo lo spazio a lui! Il canale Instagram è FANSEIA DUB o FANDAB SENSEIA SEIA, FANDAB SANSEIA! Vabbè, dopo vado a vedere, ci metto il tag e lo sentiamo! È il nostro Agostino! Il cuore batte ancora in me, batte come batte quello di Lehman Friends, che ha organizzato questa splendida diretta insieme a tantissimi amici ospiti! Insieme ripaccorreremo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco, ma per farlo occorre che io faccia bruciare il mio cosmo! Brucia! Cosmo delle tredici stelle, brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Pulmide di Bagalcus! Grande Agostino! Applauso! Pelle d'oca! Pella visita! Sotto i pene la pelle d'oca! Innanzitutto, complimenti al nostro grande Agostino, sempre! Attenzione perché in casa Antonio, in casa Antonio Fenix, c'è qualcosa, una sorpresa, forse, vediamo poi cos'è! Io sono Guilty, il maestro di Fenix, una lava, mi è stato chiamato la faccia! Ma come è possibile una cosa del genere? Tu saresti Guilty! E poi, tra l'altro, non si capisce niente! Ma quello di Fenix, è un po' scontornato! Ho detto, questo è Guilty! Eccolo, era Antonio! Ragazzi, fate un applauso di incoraggiamento ad Antonio! È vedibile! Il vero volto di Guilty! Ha avuto questa... Il vero volto di Guilty! Sì! Allora, eravamo rimasti ragazzi alla scorsa puntata, la numero 16, era una puntata eccezionale, ma attenzione perché vedo un ragazzo che ci ha raggiunto, il nostro Leo Scirio, eccolo qua! Sanseia Vintage Legend! Ciao ragazzi, ho fatto un miracolo perché davvero sono riuscito ad arrivare! Sei stato veramente un grande, sei riuscito ad arrivare! Aspettiamo altri ospiti, credo che si aggiunga anche NGL, ma innanzitutto volevo dire un paio di cosette come al solito. Ragazzi, ricordatevi che noi, Lime and Friends, abbiamo anche un canale Instagram dove parliamo di cinema a tutto spiano. C'è la nostra Thea, che si occupa del canale, ci mette le news, ci mette le belle varie cose, adesso ha creato un pagellone per votare tutti i film, insomma la nostra Thea vi aspetta sul canale Instagram che potete vedere qua sotto come si chiama, e cioè Lime and Friends, ovviamente. Poi, mi raccomando, per tutti gli amanti di Cavaliere dello Zodio che ci seguono, abbiamo aperto un gruppo Telegram per poter vedere le puntate in maniera assolutamente gratuita, perché noi paghiamo le tasse. Qui ho le ricevute, poi ho pagato anche in dollari, abbiamo ricevute, contrassegni, attenzione vi faccio vedere anche il bollo, la marca da bollo, e poi abbiamo il timbro. Allora, quindi se andate sul gruppo Telegram, che si chiama per l'appunto Lime, i Cavaliere dello Zodiaco, troverete la puntata che vedremo stasera insieme, e se la volete io la metto sempre qualche giorno prima, così se volete anticiparvela e venire qui e fare finta di sapere tutto, in realtà l'avete vista due giorni prima, potete farlo, potete fare tranquillamente i coatti, facendo finta di ricordarvi tutto, ma in realtà l'avete vista il giorno dopo. Va bene? Sono contento che avete questa possibilità. Allora ragazzi, ci siamo, alla fine dovevamo essere pochi, perché tutti mi avete detto, no, Lime, stasera c'è la seconda puntata di Sanremo, devo stare assolutamente attaccato al televisore, e io ho detto, ma ragazzi, ma ci abbiamo la... No, ma stasera canta Giorgia! E allora, avevo paura... Guarda, guarda da... Una domanda, scusami, ma per caso è rimasto qualche petolo di rosa per terra? Non lo so... Eh, Blanco ha fatto una strage. A proposito di rosa... Ma potrei averne una pure io, eh? Il grande Blanco ci ha fregati. Allora, eravamo rimasti alla puntata numero 16, l'abbiamo vista insieme due settimane fa, puntatone, e ovviamente più o meno eravamo tutti presenti, non so se Massimo l'ha recuperata, ma io devo dire puntatone. Innanzitutto perché quando le puntate sono firmate dal duo Shingo, Araki e Imeno, la qualità è sempre ottima, a livello registico, sceneggiatura, musiche azzeccate, ma soprattutto disegni favolosi. Facciamo un giro veloce prima di iniziare la puntata, Bricks, ti ricordi la 16? Sì, praticamente me la ricordo, c'è stato l'attacco di Dockertest, che vuole l'elmo dell'armatura, mandato da Fenix, beh, si è mandato da Arles, e appunto, appena morto Fenix, e quindi il grande sacerdote è riuscito a prendere i pezzi d'armatura, non ha l'elmo, e quindi iniziamo a mandare i suoi scagnozzi alla ricerca appunto dell'elmo e della sconfitta dei Cavaliere dei Bronzini. È stata rapidare lì di Isabel, e quindi adesso chissà come andrà a finire, chissà se riusciranno a salvarla. Molto bene, Antonio, senti, volevo farti una domanda specifica a te, proprio perché ti sei presentato con la maschera del mostro, Guilty, io volevo fare una domanda a tema. Allora, Dockertest, abbiamo fatto un sondaggio sul gruppo Telegram, abbiamo chiesto se per gli utenti fosse un Cavaliere d'Argento o un Cavaliere di Bronzo. Diciamo che poi alla fine, penso sia un Cavaliere di Bronzo, però la domanda specifica è questa. Lui, il colpo micidiale di Dockertest, ovviamente non solo a te ma anche agli altri, è il pugno, all'inizio dice il pugno di Eracle, che poi diventa il pugno di Ercole, poi sicuramente ci saranno stati degli errori di doppiaggio o comunque delle spiste, vabbè, ma quello non ci interessa. Ma la sua armatura tutto è tranne che Ercole, sembra un mostriciattolo gremlins, che cos'è ragazzi? Io potrei, io avevo mandato due vocali a riguardo sul gruppo, allora l'armatura di Dockertest si rifà ad un'altra costellazione famosa, che sarebbe quella dell'Hidra maschio, mentre invece quella dell'Hidra femmina è già stata assegnata al personaggio di Aspides, il Cavaliere d'Argento, quello dell'Occineria. Ma la volta scorsa, sì. Ma che bello! Leo, volevi dire qualcosa? Che in realtà non c'è nessun errore di doppiaggio, perché Ercole e Eracle sono praticamente equivalenti, sono due modi di intendere lo stesso personaggio mitologico, da punto che con l'Ercole conosciamo delle 12 fatiche. Però sarei d'accordo con me, Leo, che se nelle prime puntate, Cristal avesse detto polvere di gemme e poi si fosse trasformato in di diamanti, erano la stessa cosa, però ha cambiato. Sì, però comunque diciamo che in questo caso è stata probabilmente una svista, ma non comunque un errore, perché ripeto, alla fine Eracle e Ercole sono lo stesso personaggio. Poi, per quanto riguarda appunto sempre la mitologia, il colpo di Docrates si rifà appunto a un evento mitologico che è l'uccisione dell'Hidra di Lerna da parte di Ercole, appunto. Quindi praticamente mi stai dicendo che Docrates ha l'armatura che rappresenta l'Hidra uccisa da Ercole. È un'ipotesi, cioè almeno io mi rifaccio alla mitologia, poi non lo so se poi Kurumada, ripeto, non so se poi la Toei Animation, Kurumada o chi per lui abbia, scusate ma sono un po' influenzato, dicevo non so se poi Kurumada, la Toei Animation o chi per loro si siano rifatti, non so quanto si siano rifatti al mito. Il mito, la mitologia greca dice così, io presumo che abbiano voluto riprendere un attimino questa cosa. Esatto. Vabbè, invitiamo tutti quelli che poi vedranno la puntata in post-edisione eppure se la stanno vedendo in diretta, di commentare questa cosa, perché il personaggio di Docrates ci ha incuriosito e non poco. Leo, che cosa ti è rimasto? Aspetta, Briggs, vai! No, dicevo, se così non fosse come dice Leo sarebbe una bella botta di culo. Se così gli sarebbe andata proprio bene. Dunque credo quindi sono d'accordo con lui che secondo me si sono rifatti a questo anedoso qui. E poi penso che sia cambiato da Eracle a Ercole, sia cambiato perché comunque Docrates era scritturato per pochissime puntate e credo che... Poi una sonnanza molto simile quindi... Sì, l'adattatore, il responsabile, il direttore di doppiaggio, credo che poi specialmente stiamo parlando degli anni, metà anni Ottanta, credo che abbia sorbolato, insomma, non è che fosse così interessante essere fedeli. Allora, Leo, tu ti ricordi qualcosa in più di quella puntata che ti è rimasta a parte la bellezza? Diciamo che la veste grafica, la veste grafica secondo me riveste, diciamo, la cosa più importante perché comunque come è stato detto la scorsa puntata, come voglio ribadire adesso, completamente sceneggiata e disegnata da Cinguaracchi e Michimeno, quindi disegni fantastici, anche la scenografia non è stata male. Per quanto riguarda gli avvenimenti, vabbè, non posso dire nient'altro, nulla di diverso da quanto è già stato detto. Alla fine viene introdotto questo personaggio di Docrates che pare, pare a detta comunque dell'anime, che si tratti appunto del fratello di Cassius, quindi diciamo che nei confronti di Pegasus ha parecchio risentimento, come si è visto. E vabbè, appunto adesso ha rapito Saori, Lady Isabel e vediamo come andrà a finire. Tra l'altro, una nota per il nostro Antonio, quando ero piccolo e vedevo per le prime volte Docrates, pensavo fosse un cavaliere, eravamo tutti in fissa per il calcio anni 90, anni 80-90, e dicevo, pensavo sempre, questo è un cavaliere del Milan. Veramente? Sì, perché c'era questa armatura rosso e nera, e poi questa faccia era gigante, il Milan vinceva sempre in quegli anni, e quindi dicevo, questo è il cavaliere del Milan. Ah, ho capito. Non so se tu, Antonio, c'hai una sorpresa per noi, te la vuoi tenere per dopo. Sì, la teniamo per ultimo. Per ultimo, per ultimo, va bene, sono d'accordo. Teniamo le belle cose per ultime, così ce le gustiamo di più. Allora ragazzi, salutiamo la chat che salutano Leo, c'è un nostro Daniel Elior Castelli. Ah, mitico Dani, ciao Dani. Ciao grandissimo. Mi devi dare dei soldi? Non al momento, però comunque... No, per esempio, ve lo faccio rivedere, secondo me qui sono troppi punti esclamati, amativi, eh? No, beh, Dani è uno, è un ragazzo del nostro staff che ci segue, ci dà una mano anche, ci ha dato una mano anche con alcune esposizioni che abbiamo fatto un po' in giro qua e là, e con cui siamo molto in contatto, diciamo. Dunque colgo l'occasione pure per salutare Dani. Saluto anche Frank che purtroppo non è più con noi, ma so che lui ci segue e ci osserva sempre. Non è più con noi, non è più fra noi, che cosa gli è successo? Eh, calma, calma, ma lui c'è sempre, c'è sempre. Ciao Frank, grandissimo. Io volevo ritagliare, prima davo una notizia e poi ritagliavo un secondo, un minutino per i saluti. Allora, mi raccomando a tutti quelli che ci stanno seguendo sia in diretta che in poste visione, ma è più importante in poste visione perché uno si mette sul divano, si prepara in diretta, poi, certo, può dirci delle parolacce in diretta, però in poste visione io già me li vedo che si mettono sul divano, mettono il sincronizzato. Potete sincronizzare la puntata, la scaricate dal nostro gruppo Telegram, l'IMF sta scritto qua sotto, la scaricate e ve la mettete in sincrono e la vediamo insieme praticamente. Allora, ragazzi avete sincronizzato tutto quanto, avete tolto la sigla, tutto a posto, l'audio l'avete tolto in maniera che lo mettete nelle cuffie così, se no dopo ci sono i ritorni di cuffia? Sì, sì, ho già fatto tutto. Perfetto, siete tutti a posto. Ridagliamo questo minutino per i saluti perché stasera ci mancano un po' di persone, abbiamo detto Frank, i sensei, i legend, salutiamo Giovanni, salutiamo i Dio Oscuri che questa sera si stanno riposando e poi salutiamo Agostino che questa sera non è con noi, poi ci raggiungeranno. Non so se N.G. all'arriva fra poco, credo di sì, per i commenti finale. Allora, se siete pronti io direi di cominciare la puntata anche perché Amadeus mi sta chiamando, ho aspettato una, ma sono ancora impegnato con la live, no, fra poco dobbiamo vedere la puntata, poi chiudo e poi intervengo a Sanremo. Va bene, ciao Amadeus, ciao. E quindi, allora il nostro Bricks è caduto, vediamo un po' se ci dà notizie che magari rientra al volo per la puntata. L'ha chiamato Blanco, forse. Che se no non riesce a andare in sincrono, mi dispiace se non riesce a andare in sincrono. Intanto prepariamoci. Ecco, io vorrei farmi portavoce di un messaggio da parte del Cavaliere dei Pesci, appunto, Blanco, potremmi anche risparmiartela dai. C'è dell'odio, vero? Eh, dopo tutto il tempo che ci ho messo per creare quella splendida scenografia. Ma è fatto un casino. Allora, devo mandare un messaggio... E' riscomparso e si è riappasso. Andrò un messaggio audio in diretta a NGL. Ecco, NGL, siamo in diretta, ti mando un messaggio audio. Appena entri, ti diamo il minutaggio della puntata perché stiamo per iniziare. Ciao! Ok, allora, anche NGL è preparato. Ci siamo ragazzi, siete pronti al countdown? Prontissimi, NIM. Pronti, pronti. 4, 3, 2... Aspettate che c'è una cosa improvvisa! Che succede? Attenzione, c'è NGL in diretta! Ciao a tutti! Buonasera! Ciao a tutti! Così improvvisa che per poco mi sorprendevi anche a me. Vedete che Antonio è sceso nel tinello, invece NGL è rimasto in salone. No, no, io ho tenuto il logo. Engie, sei pronto con la puntata? Stiamo per partire. Cavolo! Sì, un attimo, un minuto, tergiversa! Intanto ti faccio dire da Massimo che cosa abbiamo detto su Dogatress e il suo... Ecco, bravi, sei andato in salone insieme. Massimo, puoi ripetere per NGL che cosa rappresenta l'armatura di Dogatress? Allora, abbiamo parlato nel complesso dell'armatura di Dogatress che si rifà appunto ad un mostro ucciso da Heracle durante le sue 12 fatiche e successivamente diventato poi Costellazione. L'Hydra? Sì, L'Hydra maschio. Vai! L'Hydra maschio, sì. L'Hydra maschio, ok. Perché devi capire, Engie, che mi sono domandato tutte queste due settimane, ma perché se Dogatress fa il pugno di Heracle il suo totem è un mostriciattolo? Cioè, ma che c'entra con Heracle? Hai ragione. E adesso abbiamo la risposta. E adesso abbiamo la risposta grazie al nostro Massimo Anfitrione. Allora, ragazzi, siamo pronti? Mi raccomando, non vi accavallate quando dite le cose, se no non ci capisce niente e mi raccomando non parlate sopra mentre parla qualcuno e dice qualcosa importante perché rivedendo le puntate precedenti alcune cose ci sono sfuggite perché si parlava sopra a chi parlava della puntata. Allora, siete pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! La donna, che puntata, ragazzi! Bellissimo. Devastante. Quanto cavolo era grosso? Cioè, con una mano la prende come sposta la bambolina. Cioè, ha preso le disabelle... Cioè, ha preso le disabelle tipo Barbie, l'ha presa la stritolata. Dato che nel palazzo lei usa solo una stanza, lui ne ha approfittato per distruggirla, quindi... ecco, da notare, da notare da molti di gioco adesso. Ricordiamoci che ha appena rotto una colonna con la mano. Esatto. Eh, a lei... Eh, almeno in buona compagnia. Ecco, questa... La cosa ridicola, lui scappa perché sente le polizie arrivare? Eh, certo. Forse aveva paura di chiedersi i documenti. Attenzione. Una scena inedita del Grande Tempio. Che più ne ha più ne metto. Al Pontefice. Devo essere sincero, devo essere sincero, io di questa serie ce ne sono pochi di personaggi che mi stanno davvero, davvero, davvero sulle scatole, ma Fettus e Sigar sono proprio due dei massimi esponenti. Vabbè, ma non sei il Toro, vabbè, anche a me sta sulle scatole Aldebaran. Non lo posso proprio vedere io, al Toro. Comunque. Ragazzi, il doppiatore di Arles è qui, è strepitoso. Beh, è bellissimo. Con questo eco. Ecco. Qual era la dovuta ricompensa? Esatto. 50 euro. Castaglia sta sempre al posto giusto, al momento giusto. È una spia perfetta. È una spia perfetta, infatti. Questa stanza. La cosa chiedono la colonna, vabbè. Tutto planetario. Tutto planetario. Planetario, all'euro. Tutto fatto. Sì. Bravo. Certo che fanno pensare a Pegasus. È peggio. Attenzione perché Kiki ha un... Sta in collegamento... Sta facendo due più due. Andiamo? Trovati. Nel mio solito senso senso. Ah, meno male. Però, scusate, ma Kiki che potere ha utilizzato? Perché l'hanno messa sull'intuito. Eh, però ci sta il fatto del sesto senso, dai. Più o meno gli stessi poteri del Cavaliere di Ariete. Premi di Prevergenza, Telecinesi e quant'altro. Sì. E comunque in generale ci sta il concetto di sesto senso, no? Tutti i cavalieri teoricamente si dice che abbiano un sesto senso, diciamo. Sì. Sì, credo. Diciamo che è un futuro Cavaliere, dai. La voce di Tony Fuochi, mamma mia. Da Brindini. Eh sì. Eh sì, bravo. Fallo notare. Un pilot che è favoloso. Ah, stanno organizzando una tattica eccezionale. Eh sì. Fai pure l'occhietto, così non ti venga nessuno. Cioè, non mi dire che loro sono andati a riprendere gli otto pezzi dell'armatura. Sono andati vicino alla caverna dove hanno fatto lo scontro con Felix. Ma perché l'hanno lasciati lì? I secchichi non poteva andarle a prendere prima. Stavolta lì, erano importantissimi quei pezzi. È pesante l'armatura. Non ce la fa. In effetti da solo. Da solo. Attenzione furbone. Vabbè, era palese. Sì. No, non pensavo di sé se non lasciatemi qui. Eccolo. Eccolo là. È qua. È neve. Allora, era al posto giusto. Bianco Natale. Ed ecco che c'è Crystal tipo Spider-Man sul lampione. Adesso gli fanno il torello. E dopo 17 puntate c'è ancora chi si chiede che cosa sta succedendo quando arriva la neve. Stanno giovando anche il rugby. È bellissimo perché da piccolo vedevo Andromeda che girava lo sguardo e quando si passava l'elmo non cambiava sguardo. Rimane la seppe? Sì. Grande Cassius, ragazzi. Molto duro. Insomma. Cassius bellissimo non è? Eh dai. Nobile Cassius, dai. Ma grande Cassius. Attenzione, ora spoilerone. E' mio fratello, ragazzi. Eh sì. Interesting. Una lotta fratricida. Ah bello, me lo ricordavo questo. La catapulta infernale. Stavo per dirlo. Un colpo atletico. Prima loro facevano il circo. Prima di... E' un colpo atletico. Fermo a quello, diciamo. Sì. Lavoravano da togni. Hai una catena, usala. Ok. Ok. Bello. Grande. Le mille mani di oculto. Eccolo qua. Ognuno di erate. Madonna, l'ha preso in pieno. Eh sì. Infatti è un po' troppo. Dopo tutto quello che aveva fatto con quel pugno. Infatti non ti ha sotto... Ecco la fine. Non hai tanto tempo per scoprirlo. Stai combattendo in diretta. Esatto. È cambiato. Adesso è Ercole. E' vero. Comunque intanto lui ne prende, eh. Ne prende parecchie. Mazza, parecchie proprio, sì. Ahia. Eh sì, questo è il wrestling. Smet down. Eh, madonna santa. Ha delle armi eccezionali. Gli artigli. Come ha? Sì, esattamente. Simile ad Aspides. Eh, esatto. Ma più o meno la cancellazione è quella. Eh sì. Sì. Astuto. Francesco, sai chi ti ha ridotto così con l'Oseo? Esatto. Questa scena, questa scena mi ricorda particolarmente un altro anime, la fine dell'uomo tigre. Non so se vi ricordate. Ah! Contro grossa tigre. Esatto. Bravo Antonio. Sì, sì. Bellissimo. Provavo. Un altro anime violentissimo. Il combattimento era eccezionale, sanguinoso al massimo. Eh, se vabbè, l'uomo tigre veramente è di una violenza incredibile. Madonna. Eh. Che impugnanza. Roba che Hulk sposta di proprio. E che se la fa fuori. Cristal si sta divertendo nel frattempo, no? Li ha inseguiti così in scioltezza. Si è fatto pure la partita di rugby. Esatto, si è divertito. Tranquillo. Adesso arriva fresco fresco. Adesso si è allenato un po'. Si è rimesso l'elmo. Sì. Ti, non si sa quando e come. Qua il clave per caso fa la dichiarazione all'Edisabelle. Per te farei qualsiasi cosa. Eh. Eh. Non gli fa niente la... Sì, ma poi finirà quella catena. Sì. Ma abbiamo scoperto che la catena ha una lunghezza variabile in base alle esigenze del... dell'autore. Vieni. Ma lui era... Ma Cristal era saltato là sopra? Perché fai caso se le diisole stavano là sopra? È apparso lì, non lo so. Infatti... Ma ci pensa lui adesso che è buttato giù tutto. Ma dove l'atletico? C'ha due tronchi. Ma dove le legge queste strozzate? Le gambe di Lebron James. Esatto. Ha un libro di anatomia del 1920. Adesso il flashback di Cristal. Eh beh. Il maestro dei ghiacci. Maniche corte. Ah, ecco. Eh, che lo dice il maestro. No, non solo, ma fra l'altro gli dice... In parte che il maestro dei ghiacci era un grande, eh. E' infatti una di quelle aggiunte rispetto al manga che sono ben riuscite, diciamo. Con i sottotitoli in giapponese gli dice che per usare questa tecnica... Mmh. Ghi dice che consuma troppo cosmo e quindi la può utilizzare... Ah, ok. In posti non caldi. Ma pensa te. Perché sennò dopo non riesce a scappare via velocemente. Ah, vedi. Ma è un olzo grande come una casa. Esatto. Ma è un tirannosauro, cioè lo potrebbe mangiare così. Dio da Big Bong. Siberia Park. Senza armature prendi due mazzate dall'orso e sei morto praticamente, ma va bene. Ma questa tecnica è un peccato che non l'abbia più utilizzata. Sì. E infatti... Era fighissimo. E per esempio contro toro... Poteva avverdirtelo, giuro. L'altro è un combattimento, più in là. Eh, infatti, non spoileriamo troppo perché sennò poi... Eh, no. Silenzio. Lui fa il balletto. Mamma mia. Questo per la gioia di Lin. Che quella sia, ragazzi. È una fortuna totale. Comunque Crystal è un cavaliere molto coreografico. Eh, beh, sì. Perché vola come un figlio. Penso che da piccolo mi piacesse regolare lui, già solo per questo. Eccolo. Che bella la parte. Non riesco a muovermi. Questa sì. E poi qui fa palesimente l'Aureo del Nord. Sì. Ha unito due corpi. La polvere del Nord, quindi. Non male. Aveva una gran strategia, c'è da dire, eh. Ammazza Crystal Top, oh. Esatto. Infatti, non a caso, è fra i miei preferiti. Ora lo prende ammazzate, però. Sì, lo disintegra. Questa scena ti fa sentire proprio dolore. Sì. Comincia la musica di Crystal. L'armatura che diventa di gomma in questi momenti, no? Eh. Pegasus, direi che devi sbrigarti. Eh, dai. Certo. Lo sta disintegrando, ha una schiena a pezzi. Esatto. Però lo alza pure. E infatti. Ha due mani, ragazzi. Sta disintegrando. Avete capito? L'energia... Ah, vedi. Esatto. Indebolisce l'armatura. Eh. Se questo non è un caso disperato. Eh. Sì, però dai, Pegasus. Vabbè, ma che coatto è che lo tira su, ragazzi? Cioè, è una coattanza. Sì, infatti, tirarlo su è la ciliegina sulla torta. Eh. Perché l'ha tirato su? Cioè, ma che sai che squat? Non è... Era del tutto inutile. Esatto. Eh, vabbè, è una piccola dimostrazione di forza. Eh, sì, sì. È tuo, finalmente. È tutto mio. Olè. Qua c'è il primo team up del... Eh, infatti, infatti, sì. Qua imparano a... Sono queste le cose che... Esatto, esatto, che creano... Però, poverino, mi ha fatto un po' pena, Douglas. Alla fine... E se sbriciola pure l'armatura? Cioè, alla fine, comunque, erano tre contro uno. Sì, beh. Tutti i cavalieri, quando fanno sta fine con l'armatura disintegrata, alla fine ti fanno un po' pena, dai. Vero? Vero. Sì, sì. Perché rivedi... Ammetto che è vero. Tornano umani. Volevo capire, ma come è maldocrates, la mano grande come una persona, ha dato tutti quei cazzotti a cristal che si è ripetuta la mano? Non lo so, com'è andato a finire? Eh, i misteri della... I misteri... Ragazzi, questo ultimo pezzo avevano cambiato il doppiatore a dragone, solo per queste parole. E se quel giorno non c'era. Ma lì lanciarono un dragone nascente all'elicottero, no? Era andato in bagno. Cioè, ha detto... Ha detto, siamo arrivati troppo tardi con l'elicottero e si andava via con tutti i poteri che c'ha lui. In effetti queste sono... Vai, vai, vai. In effetti questi sono i piccoli misteri, cioè... Potrebbero risolvere le cose... Niente, invece... C'era un mio amico che diceva, questo serve per fare il film. Nel senso, se... Eh, sì. Il Deus Ex Machina. Allora, non so se avete notato. Io ragazzi vi devo salutare, devo andare. Frix, dici la tua alcuna sulla puntata. A me è piaciuto un sacco, ripeto. Come avevo già detto anche l'altra settimana, questo primo team up è stato figo, perché alla fine imparano a lavorare insieme e anche a separarsi i ruoli, dividersi i ruoli con Sirio che va... Il piano di Crystal alla fine si dimostra lo stratega del gruppo, Crystal. E non Pegasus, appunto. Però dai, bella puntata. Si entra nel vivo qua adesso. Ti facciamo andare via, Briggs, e ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto. Molto volentiere. Grazie ragazzi, ciao a tutti, buona condivisione. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Allora, volevo dire un paio di cose, intanto sto guardando la chat, salutiamo Giovanni che ci sta seguendo, grande Giovanni! Ciao, grande Giovanni, ciao! Vi saluto a tutti, il grande Giovanni. Allora, vediamo che cosa ci dice, per chi ci ha detto anche delle cose interessanti, dice anche ciao a Briggs, a Leo, l'ha utilizzata contro Magretz. Chissà che cosa, ma Docrates voleva, valeva per tre. Ah, no, ci sta seguendo, ci sta seguendo. Ha ragione Giovanni. Effettivamente Docrates valeva per tre. Allora, l'ha utilizzata contro Magretz, a chi si riferia? Sempre a Crystal? Sì, a questa tecnica, quello che provo a fare. Di congelare le gambe. Lo sai che non me la ricordo? Lo sai che non me lo ricordo quando l'ho usata con Magretz? Vabbè, tra quattro anni ci arriviamo e lo scopriremo insieme, non vi preoccupate. Arriveremo prima o poi, dai. Nel 2027! Beh, tanto abbiamo tempo, io non ho niente da fare. Devo lasciare un testamento, se mi succeda qualcosa in questi anni, qualcuno deve andare avanti. Allora, ragazzi, puntata interessantissima. Io devo dire sempre che Docrates poi sul finale mi fa un po' tenerezza, perché poi quando vedo questi, diceva bene Ingele, quando vedo questi cavalieri che vengono disintegrati e l'armatura, ho sempre pensato, Madonna, ma chissà quanto ci avrà messo l'allenamento, la dedizione per arrivare all'armatura e poi la disintegro, mi è sempre dispiaciuto. Infatti. Allora, ragazzi, puntata interessante, diciamo, Antonio, che cosa ne pensi? Un bellissimo combattimento. Qua, oltre a Pegasus, abbiamo visto pure che Crystal si è imposto lui a sacrificio per capire anche il punto debole del cavaliere, che ha mostrato il fatto delle gambe che la poteva indurire il corpo perché ha avuto l'addestramento con il maestro dei ghiacci, come abbiamo visto, quindi era già preparato a sé e poi, nonostante ciò, ha dato, ha fatto dare il colpo di grazia a Pegasus e dire, è tuo, vai, colpiscilo. E quindi è stato bellissimo questo combattimento, devo dire, e ha subito tanto Crystal, pure, ti ha sacrificato. Max Anfitrione. Dunque, ragazzi, che dire? Allora, innanzitutto, una puntata che definire magnifica è dire poco. E ovviamente Araki, infatti, di disegni non si batte, sia Araki che Imeno, devo dire che sono insuperabili sotto questo punto di vista. E poi, ovviamente, Docrates è un cattivo veramente, che poi cattivo si fa per dire, è un personaggio veramente fantastico. Tra i filler, penso sia il personaggio meglio riuscito e poi, se bisogna dare un premio, il premio di miglior personaggio a qualcuno, per quanto Pegasus sia nelle mie grazie, il premio di miglior personaggio va al nostro Crystal, il Cigno, in quanto in questa puntata dimostra, insieme a tutti gli altri, naturalmente, di avere una forza, non da meno, di avere una forza veramente straordinaria. Che lo porterà poi al raggiungimento, sia del settimo senso, ma anche dello zero assoluto. Fantastico! Max, ti vedo bello casato su Crystal, effettivamente hai perfettamente ragione. Sentiamo Angie. Beh, alla degna conclusione di questo episodio filler, che come diceva Max, è veramente ben riuscito, con un personaggio interessante, diciamo un antagonista interessante, che per la prima volta deve essere sfidato in team dai nostri eroi. Quindi questo qui, diciamo, è uno di quegli episodi iconici, cioè quella scena che abbiamo visto con Crystal che blocca l'avversario, diciamo, ha anche una strategia in mente, tant'è che, come diceva qualcuno prima, non mi ricordo chi, emerge come lo stratega del gruppo. Perché? Perché prima sbeffeggia, tra virgolette, Pegasus, che essenzialmente è più istintivo e ha meno capacità da questo punto di vista, e lui poi invece, appunto, dimostra freddezza e ha un piano per mettere anche gli altri in condizione di combattere sinergicamente. Qui nascono, abbiamo sentito in questi primi episodi, si sviluppano sia i personaggi, e in questa puntata vediamo, appunto, alcune caratteristiche di Crystal e anche, insomma, un piccolo flashback del suo passato. E nasce, però, anche proprio il team building, no? Cioè, questo gruppo che si consolida, che si unisce. Finora, abbiamo sempre detto che Crystal, finora, era rimasto sempre un personaggio un po' più distaccato, un po' più egoista, che voleva, pensava a se stesso, pensava a essere il più forte. In questo caso, invece, si mette completamente a disposizione degli altri. Anche sacrificandosi. Anche rischiando molto. E da qui in poi sarà sempre più così, no? Sì. Prima di dare la parola a Leo, volevo allacciarmi proprio a questa ultima cosa che hai detto, perché effettivamente da quando ha lasciato la sua catenina d'oro massiccio sulla montagna, inutilmente, perché poi... Effettivamente lui ha fatto uno scatto di sacrificio. Fra l'altro, nelle sottotitoli originali giapponesi, mentre il maestro De Giacci gli diceva, utilizza questa tecnica solo in casi disperati, in realtà, in giapponese gli diceva, questa tecnica non ti garantisce la sopravvivenza. che è importante, perché è come se lui stesse usando, stesse facendo veramente un sacrificio per loro, per la causa. Leo? Non posso aggiungere nulla di nuovo, di quanto è già stato detto da Max, da Ngir, da Antonio, per quanto riguarda, diciamo, il ruolo di Crystal in questa puntata, che secondo me è centrale, appunto, perché è lo stratega che ha consentito, appunto, di sconfiggere questo avversario, Docrates, che, oltretutto, io devo chiedere veni anche, perché, inavvertitamente, credo di aver fatto un piccolo spoiler, perché, appunto, parlavamo del fatto che Docrates fosse il fratello di Cassius, e credo, inavvertitamente, di aver spoilerato un attimino, però, spero che i fan mi perdonino, ma... Ecco, poi, una cosa che però mi ha lasciato un po' di amaro in bocca è il fatto che, in questo piano di Crystal, così ben congegnato, Sirio il Dragone dovesse essere il traditore, quello che, diciamo, fosse defilato. Mi ha lasciato un pochettino l'amaro in bocca, però, tutto sommato, alla fine, vabbè, anche lui... E poi, Sirio il traditore... Anche se è arrivato tardi, però comunque... Era proprio il meno credibile. In effetti, sì. Tra l'altro, immagino la riunione che hanno avuto per decidere questo piano è Chris, ma, allora, Sirio, tu farai il traditore. Sirio, ma... Prima di luna, mi hanno detto... Il traditore... Tutte ansie psicologiche di Sirio... Comunque... Comunque... Comunque, vabbè, adesso comunque stiamo entrando nel vivo, perché alla fine, appunto, come ha detto Max, come ha detto anche N.G. e tutti quanti, si sta formando la squadra, e questa squadra comunque adesso dovrà affrontare nemici sempre più potenti, sempre più incazzosi per arrivare poi al dunque, che ovviamente non diciamo, ma... Allora, io volevo dire questo. Diciamo che lo spoiler, per quanto riguarda un prodotto uscito 35 anni fa, ragazzi, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che il nostro pubblico credo sia abbastanza esperto nei Cavalieri, perché se non sei esperto credo che lei vi subito e metti Chiara Ferrani. Io vi dico che, quindi, certo, non facciamo proprio spoiler totali, parliamo sempre della puntata, però, insomma, qualche richiamo non credo che disturbi nessuno, anzi, aiuta giusto un po' a ricordare a questa vecchia guardia che segue. Io vi dico due cose che ho notato. Una non mi è piaciuta, nel senso che non mi è piaciuto, perché tutte le cose belle le avete detto voi e sono d'accordo. L'unica cosa che non mi è piaciuta è un po' quello che fa Sirio il Dragone con Kiki, ma è sembrato un po' lasciata un po' il tempo che trova, perché Kiki, con un potere che è l'intuito, che per carità ci siamo, però, allora se ce l'ha Kiki ce l'hanno anche i Cavalieri, però non ce l'hanno, quindi Kiki ha qualcosa in più e dice, ah, ma gli otto pezzi stanno ancora là, che ce lo poteva dire pure prima quando stavamo tranquillamente nelle stanze della villa, corrono in quell'ipotetica roccia a forma di leone, che non so quanto dispi da Luxor, e arrivano proprio al momento, insomma, quella parte lì è un po' tirata così. In effetti è un po' forzata, poi tu dicevi comunque che prima, per quanto riguarda i richiami alle cose, non so se avete notato che nel momento in cui Cassio, Cassio scusate, nel momento in cui Docrates ha in mano praticamente Pegasus al centro del ring, non so se avete notato dove stava puntando gli artigli, proprio qui, diciamo che anche quello qui. Beh sì, certo. Avrebbe voluto rendere Papper focaccia al povero Pegasus, fortunatamente, ma glielo dice che gli avrebbe tolto l'orecchio? No, non fa parola, però comunque si vede inquadrato l'orecchio, è lui che punta il pugno con gli artigli. Allora ve lo dico io, perché nel sottotitolo giapponese dice proprio ti toglierò l'orecchio come tu lo hai tolto a mio fratello Cassio. Ah, perfetto. È una cosa che forse nel doppiaggio italiano hanno messo, però comunque sì, ci sta. L'ultima cosa, la scena finale, quando loro rimangono così un po' basiti in mezzo tra di loro, che si guardano come i tre Spider-Man che si indirano l'un con l'altro, di sottofondo c'è un mare in tempesta, quello è praticamente un richiamo a quello che arriverà fra poco, e cioè Morgana, la regina degli inganni, con i suoi ragazzi del mare, va bene? Quindi prepariamoci a... Diciamo che stiamo entrando nel vivo, dai. Sì, sì, ancora non è iniziata la parte dei Cavalieri d'Argento, infatti arriveremo a Nettuno nel 2030. Saranno state toppe tutte le macchine diesel. Abbiamo tempo, dai. Abbiamo tempo e... Il tempo non ci manca, il tempo non ci manca. Per il momento non ci manca. Amadeus mi sta mandando freneticamente dei messaggi che devo andare a fare l'intervento in diretta. Salvemo. Antonio. Stanno altri saluti, Giovanni, Simone. Simone Acerbo che ci saluta, grazie Simone. Ciao Simone. Ciao, ciao. Grande, Simo. Mind World, allora senti, Antonio, tu ci devi fare una sorpresa, ce l'hai promesso. Ecco qua. Il calendario dei Cavalieri. Ah, grandissimo. Applauso. Grande, Antonio, grande. E' sempre pieno di sorprese il nostro Antonio. Sempre a spendere soldi, sempre a spendere soldi. Per il calendario, questo qua, va bene? Ma dove l'hai preso? Quanto l'hai pagato? 70 euro, dove l'hai preso? L'ho personalizzato io. L'hai fatto tu? L'hai fatto tu? L'ho fatto io e ho fatto fare la stampa del carta fotografica dal fotografo, ovviamente. Ma faccelo vedere meglio, faccelo vedere meglio. Immagino il fotografica. Bello, bello. Ammattete. Bravo, bravo. Facci vedere un gennaio a caso. Ecco qua. Quello, quello è gennaio-febbraio. Allora, facciamo così. A ogni puntata ci fai vedere una pagina. Bravo, Erci. Bravo, Erci. Se è qualcosa, possiamo fare una copia a ognuno di noi. Glielo dico al fotografo. Anche a tutti quelli che ci seguono, chiaramente. A questo punto, sì, allarghiamo l'invito e quello che può essere qualcosa di bello da attaccare. Poi, fra l'altro, se... Vabbè, poi la prossima puntata ci fa vedere qualche altra pagina. Così, così... Sì, non scoleriamo subito tutto, però altrimenti... Insomma, teniamoci. Bellissimo. Poi è lucido, quindi bello... È carta fotografica. Sì, sì, sì. Carta fotografica lucida, perfetto. Ho una domanda specifica, Antonio. Che cosa ti ha detto il fotografo quando gli hai portato le cose da stampare? No, lo sa che io sono un tipo appassionato. Ho fatto anche l'anno scorso quello dei cinque samurai, quindi... Non si è meravigliato più di tanto. L'ha preso con gusto questo lavoro da fare, quindi... Infatti ci sta anche la mia mamma sopra. Antonio... Ah, vedi? Aspetta, aspetta! Aspetta che lo vediamo da più vicino? Ah, sì, ecco lì. Ora lo vedo, lo vedo molto. Allora, poi ovviamente nelle prossime puntate vi diamo dei dettagli più specifici, ma in special modo andremo a cercare di carpire la diatriba che avverrà adesso tra Antonio Esposito e Sansegna Vintage Legend, che anche loro hanno fatto il calendario. e quindi ci sarà una guerra interna... Vabbè... No, no. No, vabbè. No, vabbè, diciamo che vabbè sì, il nostro calendario è a tema vintage, quello di Antonio è a tema cavalieri un po' più in generale, però comunque sono due opere, sono due opere diciamo che si vanno a completare, dai. Noi... Grazie Giovanni, che ti piace. Con questo... Comunque, comunque volevo dire solo una cosa prima dei saluti finali, visto che appunto parliamo del gruppo Sansegna Vintage Legend Italia. Vai, vai, lei. Volevo dire a tutti quanti, se avete piacere, noi dal 22 di febbraio saremo presenti con l'esposizione appunto dei nostri modellini vintage presso il negozio Film Musica in provincia di Vicenza. Quindi, se vi trovate a passare da quelle parti, avete piacere di venire a vedere i nostri modellini in esposizione e vi aspettiamo numerosi. Beh, poi fra l'altro, se posso dire, io ci metto la faccia, la parola, la voce. Ragazzi, stiamo parlando di un gruppo, Sansegna Vintage Legend, che ci mette veramente l'anima, eh. Per questi vintage sono appassionati, spendono tempo, ogni giorno ci sono dei racconti, delle specifiche sui vintage. Io, ragazzi, non so neanche come fate. Vi stimo. Ogni volta dico un'altra cosa hanno messo. Bravissimo. Un applauso a voi. Con questo chiudiamo, ragazzi. Beh, no, aspetta, aspetta. Prima bisognerebbe leggere l'ultimo messaggio, l'ultimo invito di Giovanni. L'ultimo messaggio di Giovanni, nostro fratello, vai. Secondo me vale la pena. E noi siamo d'accordo. Io propongo solo con l'elmo, perché con l'elmo sarebbe proprio perfetto. Io mi offro volontario per ottobre, però in perizoma leopardato. Io quello di Luglio. Giovanni, che birichino che sei. Ma guarda, io per fare Cristal c'ho già la parrucca bionda per fare Cristal, quindi... Perfetto. Hanno detto, hanno detto che... Io ho pure l'orologio della meridiana dello Zodiacolo, la vedete? Ah, vedi. Aspetta. Antonio è veramente una fonte inesauribile, guarda. Donna, sanno. Ma cosa fa? Li forgia lui. Che cosa fa? Li forgia lui. Non c'è altra spiegazione. E io che cosa mi hanno detto, che vogliono un calendario... Vieni, vieni, Greta. Su entrambi i calendari vogliamo l'immenudo. Sì. Un mese di anno. Ti dici, lo facciamo? No. No. No, no. No. È gelosa del papà. Ragazzi, Amadeus mi chiama, devo andare al teatro. Ti capiamo, ti capiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, ragazzi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Aspetta, aspetta. Ah, Leo. Aspetta un attimo. No, niente. Giusto un paio di salutini. Ve lo devo salutare ancora Dani. Grazie per averci seguito, per aver seguito la diretta. Un salutone anche a Frank, che non è stato con noi stasera. Speriamo di poterlo rivedere presto. Ciao, Frank. Dai, ti aspettiamo. Allora, io con questi saluti specifici, tra l'altro, vedo Leo molto emozionato, alle lacrime agli occhi, era un saluto quasi, non lo so, fraterno. È bene, sì, dai. Grazie di aver partecipato e ci vediamo fra due settimane. Io vado. Ah, ma sto arrivando. Ah, ma ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.